Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video recapone di un set che molto probabilmente cambierà un po' il tipo di gioco di Yugi anche perchè verrà introdotto un nuovo tipo di mostro, il tipo illusion, ma non solo Prima di iniziare ragazzi voi sempre invito a iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre a giornali con il mondo di Yugi mi raccomando ragazzi, importantissimo, grazie mille, ripeto mi raccomando, con un velo di minaccia, no scherzando metterò questo video a inizio mese così evito il fatto che me lo facciano saltare in operaria tra virgolette ovviamente e link fantasy store per preordinare il set detto questo, partiamo Duelist Nexus, Magician of Bones of End Unity molto probabilmente un po' tipo il drago 100.000, effetto inutile ma carta da costo elevato può essere evocato specialmente dalla mano avendo 25 più carte nel cimitero guadagna 2500 di attacco e di difesa quando l'avversario controlla 25 o più carte nel cimitero quindi è una carta che coserà tanto perchè gli metteranno nella realtà strana Will Synchron e partiamo se utilizziamo questa carta sul terreno come materiale per un'evocazione synchro possiamo trattarla anche come una carta non tuner andiamo bene possiamo utilizzare ogni effetto una volta per turno durante la main phase possiamo, poi non possiamo evocare specialmente l'extra deck per il resto di questo turno ad eccezioni di synchro dopo che questo effetto sia risolto quindi i voli pindarici che scrivono possiamo normalare un mostro allo 4 o inferiore possiamo mandare questa carta nel graveyard per targettare un mostro synchro che controlliamo e gli diminuiamo il livello finchè non arriva a 4 Revolution Synchron è una carta abbastanza interessante ora andiamo a vederla se evochiamo tramite sincronizzazione un mostro utensile synchro oppure un mostro di livello 7 o 8 drago synchro possiamo utilizzare questa carta dalla mano come materiale possiamo utilizzare gli effetti una volta per turno se questa carta è nel cimitero e controlliamo un mostro di livello 7 o superiore synchro possiamo andare alla prima carta del deck al cimitero e se lo facciamo evochiamo specialmente questa carta e se lo facciamo il livello diventa 1 ogni effetto questo effetto può essere utilizzato soltanto una volta per duello è un po' come la laniera che si rievocava nel cimitero un po' di fare una volta sola ed eccoci qui se viene evocato possiamo aggiungere al deck alla mano un mostro di livello 5 demon oppure una chimera fusion dal deck alla mano se viene mandato al cimitero come materiale per una evocazione e fusione possiamo aggiungere un mostro illusionist dal deck alla mano effetto una volta per turno berfumet in una maniera bellissima ci viene proposto the great wings se viene evocato possiamo aggiungere un mostro di livello 4 bestia e oppure una chimera fusion dal deck alla mano quindi può andarti a prendere sia gazelle che la chimera fusion in più non possiamo aggiungere specialmente mostri dall'extra deck in questo tour la decisione di mostro di fusione se viene mandato al cimitero come materiale per una evocazione e fusione possiamo targettare un mostro illusionist nel graveyard e specialarlo quator i mostri non possono essere distrutti in battaglie che convocano questa carta a parte che mi pare la gazelle non è cioè la gazelle non è illusionist cioè non è illusion è bestia però lei introduce praticamente loro e non possono i mostri non possono essere distrutti in battaglie che convolgono questa carta ogni effetto una volta per turno possiamo scartare questa carta aggiungere un mostro che è invenzione a chimera fusion dal deck alla mano eccetto lei quando l'avversario attiva una carta ha un effetto che targetta una più carte che controlliamo e noi controlliamo una chimera del fly medical beast possiamo modere questa carta dal terreno al cimitero per negare l'effetto e spaccare la carta mirror's war man i mostri non possono essere distrutti in battaglie che convolgono questa carta caratteristica di ogni mostro illusione effetto rapido possiamo tributare questa carta per specialare un mostro che menziona a chimera fusion dal deck è eccezione di lui quindi vai a calare berfumet quando l'avversario attiva l'effetto di un mostro sul terreno e noi controlliamo la chimera possiamo modere questa carta dal terreno o cimitero per negare l'effetto diciamo loro sono abbastanza buone come carte king rex e king rex the dragon king se non controlliamo i mostri possiamo evocarlo specialmente dalla mano possiamo evocarlo specialmente con il suo effetto una volta per turno se viene evocato un'arma lo special possiamo targettare un mostro sul terreno con l'attacco inferiore all'attacco di tutti i dinosauri che controlliamo e lo spacchiamo in effetto è un'altra volta per turno possiamo anche spaccarci uno dei nostri dinos king rex quando questa carta attacca e distrugge un mostro e l'avversario in battaglia possiamo fargli fare un secondo attacco durante questa battle phase una volta per turno eccetto il turno in cui questa carta è stata evocata possiamo targettare due mostri che l'avversario controlla e li spacchiamo se fosse stato effetto rapido meglio ma devi aspettare troppo per attivarlo e andiamo a vedere gli altergeist malwhip e perinetror se viene aggiunto la mano a eccezione pescandolo possiamo specialarlo se viene evocato possiamo targettare un altergeist nel grave a eccezione di lui e specialarlo in difesa ma non può attivare i suoi effetti in questo turno perinetrator questa carta può attaccare direttamente ogni effetto una volta per turno quando infligge danno da battaglia all'avversario possiamo pescare una carta se questa carta viene mandato al terreno al cimitero possiamo mandare un altergeist nella mano al deck o scoperto al grave e a eccezione ovviamente di lui mandatium trade veda vedete me lo ricordavo c'era un veda e 40 supporti mandatium e visas se controlliamo visas o un mostro 1500 ed 1100 possiamo specialare questa carta dalla mano ogni effetto ok possiamo evocarlo specialmente una sola volta per turno in questo modo se questa carta viene distrutta in battaglia all'effetto della carta possiamo specialare un mandatium da tuner dal deck veda 40 se una più carte sul terreno vengono distrutte dall'effetto di una carta e visa star frost sul terreno possiamo evocare special questa carta dalla mano poi possiamo aggiungere una clear new world al deck o cimitero alla mano se uno o altri più mostri in nostro possesso vengono distrutti dall'effetto di una carta possiamo targetare un mostro che l'avversario controlla e lo spacchiamo se lo facciamo questa carta guarda gli attacco guarda l'attacco originale del mostro spaccato fino alla fine di questo turno inferno ball night richardetto fortissimo mi pare che era fortissimo turpin altri due supporti inferno ball possiamo dire questa carta dalla mano cimitero specialare un mostro 4 inferiore fuoco guerriero dalla mano e diventa tuner se questa carta viene normalata o specialata possiamo targetare un mostro livello 4 o inferiore guerriero fuoco nel cimitero a eccezione di lui e lo specialiamo in più non possiamo evocare specialmente mostri mostri ad eccezione di guerriero nel turno in cui attiviamo questo effetto poi turpin se controlliamo un mostro equipaggiato con una carta maggiore equipaggiamento possiamo evocare specialmente dalla mano oppure cimitero ma se viene evocare il cimitero lo bandiamo se questa carta è nel cimitero possiamo targetare un mostro guerriero che controlliamo e equipaggiamo questa carta a quel mostro e controlliamo possiamo utilizzare ogni effetto una volta per turno e una volta per turno se il mostro equipaggiato viene utilizzato come materiale sincro può essere trattato come materiale tuner nemurelia due nuovi supporti elzer e reveal sono due gelati praticamente se questa carta è nella mano possiamo targetare un mostro e controlliamo lo piazziamo in fondo al mazzo e se lo facciamo evochiamo specialmente questa carta se questa carta viene evocata specialmente possiamo attivare uno dei seguenti effetti aggiungere un Dreaming Nemurelia dal deck o dal deck all'extra deck scoperto cambiare la posizione di un altro mostro scoperto sul terreno a coperto in posizione di difesa guadagni a 100 per ogni carta coperta nel nostro extra deck ok poi Dreamator reveal se questa carta è nella mano o cimitero possiamo mandare tre carte dall'extra deck coperte a eccezione di Dreaming Nemurelia e specialare questa carta non possiamo vogliare specialmente mostri dall'extra deck nel turno in cui attiviamo questo effetto ad eccezione di mostri pendolo possiamo mandare un altro mostro a livello 10 bestia dalla mano oppure scoperto dal terreno al cimitero settiamo la carta Nemurelia trappola direttamente dal deck due supporti veramente niente male comunque per Nemurelia Nemurelia, 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 vabbè Evoltile ed Evolsaurus se questa carta viene evocata possiamo specialare un Evoltile dalla mano o cimitero coperto in posizione di svesa durante la nostra mind phase possiamo settare un Evol Force o Evol Instant direttamente dal deck ogni effetto una volta per turno se uno più mostri controliamo stando per essere stati in battaglia all'effetto di una carta possiamo tributare un mostro rettile o un dinosauro per evitare la distruzione Rios se viene evocata settiamo un Evolutionary Bridge oppure Evol Singularity direttamente dal deck se controlliamo questa carta che è stata evocata specialmente dall'effetto di un mostro fuoco questa carta è stata evocata specialmente dall'effetto di un mostro fuoco oppure evocata normalmente possiamo mandare un mostro fuoco rettile dinosauro dal deck al cimitero poi possiamo far prendere il tipo e il livello di due mostri scoperti sul terreno ci possiamo far cambiare fino tipo e livello a due mostri scoperti sul terreno diventano il tipo e il livello di quel mostro quindi fino a due creature hanno quel tipo e il livello del mostro mandato mamma mia quanti buoni pindari ci sono certe volte quando scrivono gli effetti ok che anche io non sono il massimo però Unshade sul Sharvala durante il my face questa carta è nella mano effetto rapido possiamo targettare un mostro demone oppure una carta settata e controlliamo e la spacchiamo se lo facciamo lo specialiamo e se lo facciamo non possiamo evocare specialmente mostri nella nostra zona admin finché questa carta è scoperta dalla nostra mainzone a eccezione di mostri demone se questa carta viene mandata al cimitero possiamo settare una carta Unshade ma geotrappola direttamente dal deck possiamo targettare una carta che controlliamo spacchiamola se lo facciamo spacchiamo una ma geotrappola sul terreno se questa carta è nel cimitero possiamo targettare un mostro demone una carta settata che controlliamo la spacchiamo se lo facciamo specialiamo questa carta ma la passiamo in fondo al deck e quando lascia il terreno Rescue Ace Preventer carta abbastanza interessante poi abbiamo Testalos il nuovo monarca Vihimoth il re di tutte le guerre Nightmare Magician che sarà secret da noi Hilt e poi andiamo a vedere altro Rescue Ace Preventer possiamo mandare una carta Rescue Ace dal Griever per specialare questa carta dalla mano se controlliamo un'altra carta un altro mostro Rescue Ace effetto rapido possiamo targettare un mostro dell'avversario cambiamolo la sua posizione in coperta in difesa se questa carta viene mandata la Griever possiamo targettare un mostro bandito per Rescue Ace eccetto un mostro di livello 8 e specialarlo Testalos Shadow Firestorm Monarch possiamo tributare evocare tramite tributo questa carta tributando anche un mostro che l'avversario controlla un mostro che è un mostro evocato tramite tributo che controlliamo se questa carta viene evocata tramite tributo possiamo bandire a caso una carta dalla mano dell'avversario e se lo facciamo gli infliggiamo 1000 poi se questa carta è stata evocata tributando un mostro dell'otto superiore possiamo bandire una carta sul terreno e se è fuoco oppure oscurità un mostro fuoco oscurità infliggiamo danno all'avversario pari al suo livello originale per 200 beh Himot re di tutte le guerre possiamo evocarlo normalmente con un tributo se questa carta viene evocata normal o special possiamo targettare un bestia un bestia o bestialata al cimitero e aggiungerlo alla mano e se lo facciamo questa carta perde 700 di attacco questa carta evocata normal è immune agli effetti delle carte dei mostri evocati specialmente agli effetti attivati dei mostri evocati specialmente una volta per turno durante la phase possiamo far guadagnare questa carta 700 di attacco quindi diciamo diventa una carta immune agli effetti dei mostri evocati special che potenzialmente se non ti riprendi il mostro dal cimitero c'ha 3004 puoi evocarlo con un tributo solo anche quindi diciamo nightmare magician mostro illusion gli mostri non possono essere distrutti in battaglie che coinvolgono questa carta alla fine del damage se questa carta ha combattuto con un mostro dell'avversario possiamo prendere il controllo di quel mostro una volta per turno all'inizio del damage se un altro mostro attacca possiamo spaccare una carta di un terreno il che non è male se riesce evocatelo specialmente tranquillamente non è male hita possiamo scartare questa carta è un mostro fuoco per raggiungere un mostro fuoco dal deck alla mano con un attacco più grande nell'attacco dell'altro mostro scartato in più non possiamo attivare effetti dei mostri per essere in questo tour un'eccezione di mostri fuoco quando mostro quando mostro fuoco ecco togliamo l'inizio di battaglia mentre questa carta è nella mano possiamo specialarla ok mi piace ormai il potroppo non mi piace non per niente agrimal candle uruca pod of greed click ed eco singh singh in cucco ma in realtà lui è fortissimo nel monarchy se questa carta viene aggiunta la mano a eccezione della pescata possiamo specialarla ogni effetto una volta per turno una volta per cadena fino a tre volte per turno se non più mostri vengono mandati al cimitero possiamo aumentare o ridurre il livello di questa carta di uno quando mostro che controlli lascia il terreno a causa di una carta dell'avversario e nessun'altra carta possiamo mandare questa carta a mano al cimitero specialare quel mostro se questa carta viene bandita scoperta se viene bandita scoperta oppure al cimitero altrimenti spieghiamo questa carta bandita aspettate non ho capito ah ok se viene bandito lo lo ok ok praticamente allora se un mostro lascia il terreno possiamo bandire questa carta dalla mano o cimitero specialiamo quel mostro se è stato un bandito scoperto oppure al cimitero altrimenti specialiamo questa carta bandita se questa carta viene evocata specialmente possiamo far prendere 1500 di attacco fino alla fine del prossimo turno effetto scopri scaviamo carte dalla cima del mazzo fino al numero di carte che l'avversario controlla aggiungiamo delle carte scavate del resto non le scrive mandiamo mostri all'extra deck al cimitero fino al numero di mostri evocati specialmente dall'extra deck che lo controlla non può essere utilizzato per materiale fusione synchro ex se questa carta scoperta al terreno non può essere tributata e se questa carta viene mandata dal terreno al cimitero come materiale link la possiamo specialare sul terreno dell'avversario in difesa ok un altro turno se questa carta viene evocata specialmente al suo secondo effetto ah deve giocare con la mano rivelata ok veramente ma il secondo effetto mamma mia quindi l'oppo deve giocare con la mano rivelata non è neanche malaccio singing cuco durante la mine face possiamo attivare uno di questi effetti distruggiamo questa carta peschiamo una carta scartiamo una carta peschiamo una carta peschiamo una carta alla fine della mine face e andiamo con le carte di extra mikanko chimera the phantom beast king chimera the illusion magical beast runic main magnum the reliever possiamo evocare questa carta ritualmente con mikanko kagura questa carta è nella mano al cimitero e abbiamo un'altra carta mikanko nel grey possiamo targettare un mostro sul terreno equipaggiamo e lo equipaggiamo con questa carta ogni effetto una volta per turno una volta per turno durante la infezza e questa carta è equipaggiata a un mostro possiamo far ritornare questa carta e il mostro equipaggiato nella mano non può essere in battaglia e ogni danno che prende l'avversario cioè ogni danno da battaglia ne lo prende l'avversario un bestia più uno più un mostro demone chimera phantom beast il nome di questa carta diventa chimera la mistica bestia volante quando è nel terreno al cimitero ma viene trattata sempre con una carta phantom beast ok se questa carta viene evocata fusione possiamo attivare questo effetto durante la infezza e questo turno mandiamo una carta a caso dalla mano dell'avversario al cimitero durante il turno dell'avversario effetto rapido possiamo bandire questa carta dal graveyard per targettare una bestia un demone oppure una carta illusion nel cimitero ed evocarla specialmente chimera la bestia mistica volante più un mostro illusion il nome di questa carta diventa la chimera bestia mistica volante ed viene sempre trattata come una carta phantom beast quando è sul terreno o cimitero questa carta può effettuare attacchi su mostri sul terreno durante ogni battle phase fino al numero di mostri materiali per la sua evocazione tramite fusione i mostri non possono essere istrutti in battaglia che coinvolgono questa carta alla fine del damage possiamo cambiare se questa carta combatte contro il mostro e l'avversario alla fine del damage step possiamo fargli cambiare l'attacco al mostro zero e negargli l'effetto e poi ci potete anche rischiantarvi sopra così dopo si prende i danni durante la my face o la battle face all'avversario effetto rapido possiamo targettare il mostro scoperto che lo controlla bandiamolo bandiamo lui e questa carta fino all'emphase se l'avversario aggiunge una o più carte dal deck alla mano possiamo specialare il mostro runic token di lallo 4 15005 fata luce in posizione di attacco un mostro specialmente all'exa deck più un mostro nella mano possiamo targettare una polimeritazione oppure una magia fusione nel cimitero e piazzarla in fondo al mazzo dopodichè peschiamo una carta quando un'altra carta attiva il suo effetto effetto rapido possiamo bandire una polimeritazione una magia polimeritazione una magia fusion dal cimitero per targettare una carta tutto il nero e spaccarla questa carta non è male non ha quell'effetto sgravo ma è comunque un'ottima carta cosmic quasar dragon the crimson dragon visas amertrara angelica ursartric polar stall e gaia blaze cosmic quasar dragon tuner sincro più due o più mostri non tuner sincro livello 4000 deve essere più evocato specialmente con i materiali sincro una volta opportuno possiamo targettare carte scoperte sul terreno fino al numero di mostri utilizzati per la sua evocazione sincro più uno e neghiamo i loro effetti questo effetto le sue attivazioni non possono essere negate effetto rapido possiamo bandire questo mostro evocato tramite sincro per speciale un mostro sincro che menziona due o più mostri non tuner sincro come materiali dall'ex extra deck questa viene considerata come un'evocazione sincro la potenza crimson dragon un mostro tuner più uno più mostri non tuner se viene evocato specialmente aggiungiamo la maggiore trappola che menziona dei crimson dragon dal deck alla mano effetto rapido possiamo targettare un mostro livello 7 o super sincro sul terreno ad eccezione di lui facciamo ritornare questa carta nell'ex deck se lo facciamo specialiamo un mostro drago sincro con lo stesso livello dall'extra deck questa viene trattata come un'evocazione tramite sincronizzazione visas amritara un tuner più un mostro luce non tuner se questa carta vi no un mostro luce quindi va bene vabbè credo dovrebbe andare bene anche un altro mostro tuner che di solito dicono un tuner vabbè il nome di questa carta diventa visas quando è nella zona terreno da una zona mostri vabbè possiamo utilizzare ogni effetto una volta per turno se questa carta viene evocata tramite sincro possiamo aggiungere una vallgia trappola che menziona visas dal deck alla mano durante la my face possiamo distruggere il mostro che controlliamo e se lo facciamo per il resto di questo turno tutti i mostri sincro che controlliamo guadagnano 800 di attacco angelica un tuner più uno più mostri non tuner se viene evocata specialmente possiamo aggiungere una carta che menziona inferno bubble night and peril charts oppure un horn of olifant dal deck alla mano con una carta che viene attivato una carta un affetto che targetta questa carta o quando questa carta viene targetta davvero l'attacco effetto rapido possiamo mandare un mostro fuoco guerriero dal deck al cimitero se lo facciamo mandiamo questa carta fino alla in face poi possiamo speciale un roland dal deck o extra deck non male non è normale noi gli inferno polo sono molto buoni ursa trick pole star non può essere evocato sincro deve essere evocato specialmente all'ex deck mandando a due mostri controlliamo con la differenza fino di uno al cimitero un tunnel un mostro un tunnel possiamo anche tributare un mostro allo 8 ursa trick dalla mano o terreno e questa carta allora c'è appunto possiamo tributare un mostro allo 8 ursa trick dalla mano o terreno e questa carta e questo livello 7 ursa trick sincro dall'ex deck ignorando le condizioni di evocazione se lo facciamo con i seguenti effetti l'avversario non può attivare carta effetti di mostri specialmente all'ex deck che abbiano livello quindi tributando lui un mostro livello 8 dalla mano o terreno evochiamo un mostro livello 7 che ursa trick che guadagna questo seguente effetto gaia blaze quando questa carta distrugge il mostro dell'avversario in battaglia possiamo attivare questo effetto può attaccare una seconda volta alla fine della bottle face possiamo targettare il mostro fuoco del cimitero fino al numero di mostri che costa la carta ha distrutto in battaglia e aggiungerli alla mano quindi puoi targettare tanti mostri in base dei mostri che ha distrutto quindi minimo due e spaccano in battaglia se ne spacca due e walzar e pure linoar l'incantatore figo grenosaurus e poi partiamo con ah sono tre link vabbè li buttiamo tutti in mezzo così che ci frega evolve a razza due mostri di livello 6 l'avversario non può targettare questa carta con materiale con gli effetti dei mostri quando l'avversario attiva l'effetto della carta attiva una carta un effetto effetto rapido possiamo staccare due materiali da questa carta per targettare una carta scoperta che l'avversario controlla e gli neghiamo gli effetti fino alla fine di questo turno e tutti i materiali di questa carta sono erettile oppure dinosauro possiamo attivare questo effetto di negare staccando un solo materiale anziché due eppure linoar una volta per tutto possiamo scartare una carta targettare una carta che l'avversario controlla fino oppure fino a due carte se questa carta ha pure le sleepy memory come materiale e la facciamo ritornare in mano fino a tre volte per turno quando viene attivano una carta pure in immagine rapida effetto rapido possiamo attaccare una carta tutelare come materiale a questa carta e in più possiamo settare una carta pure li trappola direttamente dal deck telematech kratis due mostri all'otto ogni qualvolta l'avversario attiva una trappola un effetto un effetto di un mostro piazziamo un segno di una magia su questa carta quando si risolve massimo nove possiamo rimuovere tre spell counter da questa carta per applicare uno dei seguenti effetti aggiungere magia oppure aggiungere mostro incantatore effetto dal deck alla mano la magia qualsiasi specialare mostro incantatore dalla mano deck ogni effetto una volta per turno se questa carta sta per essere distrutta possiamo invece staccare il materiale crinosaurus the magic head dragon quando il nostro dinosauro distrugge in battaglia il mostro dell'avversario manda al cimitero possiamo staccare il materiale di questa carta infliggiamo mille all'avversario poi questa carta guadagna mille di attacco se questa carta evocata ex si viene distrutta possiamo targettare una carta sul terreno e la ce la possiamo spaccare anche da sole altergeist adminia due mostri altergeist a 3000 di attacco e link 4 due più mostri altergeist se questa carta viene evocata link possiamo settare una trappola altergeist direttamente dal deck una volta quando questa carta è scoperta sul terreno durante la fs effetto rapido possiamo andare in una carta che controlliamo al cimitero per targettare un mostro con effetto che l'avversario controlla e io lo freghiamo e se lo facciamo viene trattato come una carta altergeist carlemagne un mostro di livello 9 infernobo night and peril charge equipaggiato con una carta equipaggiamento se questa carta viene evocata tramite link possiamo targettare un infernobo night and peril charge il cimitero il nome di questa carta diventa il nome originale di quel mostro e replichiamo i suoi effetti e in più equipaggiamo con la carta questa carta e guadagna 500 di attacco una volta per turno con una magia trappola o un loro effetto vengono attivati effetto rapido possiamo andare a una carta magia di equipaggiamento dalla mano oppure scoperta al grave per negare l'effetto e spaccare la carta inshade sul king yama dei mostri demone se viene evocata specialmente possiamo aggiungere un mostro inshade al deck o cimitero la mano se una più carte che controlliamo vengono distrutte in battaglia dall'effetto di una carta mentre questa carta nel cimitero possiamo bandirla specialmente il mostro demone dalla mano o cimitero poi spaccare una carta che controlliamo male bello le i link uncede le carte uncede sono veramente belle mi piacciono synchrone overtop synchro world chimera fusion jurassic power the world has won priest in planet armitrara e andiamo con le magie fino a qua ok targettiamo numero livello 7 e 8 drago synchrone del cimitero e li specialiamo in posizioni di difesa ma i loro livelli diventano uno e i loro effetti sono legati in più non possiamo giocare specialmente all'extra deck in questo turno ad eccezione di mostri synchro quando il mostro synchro è distrutto in battaglia possiamo andare in questa carta dal cimitero specialmente crimson dragon dall'extra deck ogni effetto una volta per turno synchro world terreno ogni volta uno o più mostri vengono evocati tramite synchro piazziamo due segnalini su questa carta ne possiamo rimuovere 4, 7 o 10 possiamo rimuovere 4, 7 o 10 segnalini dal terreno per attivare uno dei seguenti effetti 4 aumentare o diminuire il livello di 1 di un mostro scoperto che controlliamo di 1 quindi un mostro aumenta o diminuisce sul livello di 1 7 specialmente un tunnel dal grave 10 specialmente un synchro dal grave se questa carta sotto il nostro controllo viene distrutta dall'avversario possiamo specialmente un crimson dragon dall'extra deck chimera fusion durante la mind phase evochiamo tramite fusione carta magia rapida un mostro fusione dall'extra deck utilizzando i mostri della mano terreno come materiale inclusi un mostro bestia oppure un mostro demone durante la mind phase questa carta è nel cimitero e noi abbiamo una chimera bestia mistica volante sul terreno o nel cimitero possiamo attivare uno dei seguenti effetti aggiungere una mano bandire questa carta se lo facciamo specialiamo un gazelle re delle bestie mitiche e un berfumet dal deck o grave possiamo utilizzare questo effetto una volta per turn girassi power magia continua i mostri dinosauri che controlliamo guadagno 300 di attacco possiamo evocare un mostro livello 5 o superiore dinosauro senza offrire tributi possiamo mandare un mostro dinosauro dalla mano o scoperta al terreno aggiungere un mostro dinosauro con 1.2 di difesa dal deck alla mano i mondi attiviamo gli effetti specialiamo un mostro 1.5 e 2.100 dal grave mischiare 5 mostri che sono stati banditi scoperti o sul terreno oppure nel cimitero nel mazzo un visa star frost e 4 mostri con 1.5 e 2.100 se lo facciamo specialiamo un visa star un visas sincro dall'ex lec viene trattato con l'educazione sincro il multiverso pristine planet amritara attiviamo questa carta solo se controlliamo visas una volta per turno se uno più mostri controlliamo vengono distrutti in battaglia ad effetti una carta ma nel cimitero oppure banditi possiamo attivare uno dei seguiti effetti specialare uno di esso in difesa un tuner sul terreno guadagna attacco uguale alla metà di uno di essi mischiare uno di essi nel deck poi pescare una carta mischiare questa carta e l'ammazzo e se lo facciamo aggiungere una magia terreno dal deck alla mano spacco faccio spacco trigger spacco faccio tac inferno hearts the noble hands emergency dark corridor eh corrupted gem of rebellion reinforcement duelist genesis trash and drake mirror formation egomorph eternal ice grave e aqua round così cerchiamo di finire le magie quando questa carta è equipaggiata a un mostro possiamo equipaggiare una carta inferno vol immagino equipaggiamento al deck o cimitero a un mostro appropriato a eccezione di questa carta poi distruggiamo questa carta se questa carta viene mandata al cimitero perché i mostri che ho pagato è stato mandato al cimitero possiamo targettare un nostro mostro fuoco guerriero che è stato mandato per il cimitero e aggiungerlo alla mano terreno i mostri guerriero fuoco e controlliamo con il 500 una volta per 1 possiamo pagare 1200 per aggiungere una carta nobili armi dal deck alla mano ad eccezione di questa carta una volta per turno possiamo applicare il secondo effetto di questa carta possiamo targettare un mostro noble knight nella zona mancetta trappola e specialarlo in più se non controlliamo un inferno noble knight imperial charts l'attivazione non possiamo specialare mostri per il resto di questo turno ad eccezione di mostri fuoco emergency viene sempre trattata come una carta rescue ace specialiamo rescue ace dal deck in difesa poi tributiamo un rescue ace dalla mano oppure terreno durante la 9 phase possiamo bandire questa carta dal grave per targettare una trappola d'archetipo nel cimitero e settarla sono due carte che potenziano tantissimo il mazzo dark corridor raggiunge un dark dal deck alla mano e poi scarti uno fortissimo targettiamo un mostro scoperto sul terreno e lo piazziamo nella zona magia trappola del proprietario come carta magia continua riveliamo un mostro fusione all'exa deck se lo facciamo specialiamo uno dei mostri fusioni menzionati come materiali dall'exa deck o cimitero ma alla fine dell'hand phase del turno dell'avversario ha gli effetti negati ok fino al fine nel prossimo turno dell'avversario non può attaccare e c'è gli effetti negati se abbiamo un tunnel sul terreno o nel cimitero aggiungiamo un magico trappola sincrono dal deck alla mano trascendentale evolution pil beta tributiamo due mostri dal mano al terreno inclusi un dinosauro poi non possiamo specialiare mostri tra l'exa deck in questo turno il turno con questa carta si risolve ad eccezioni di draghi dinosauri serpenti marini e wyrm e specialiamo un mostro livello 5 superiore dinosauro dal deck o extra deck con attacco superiore ai mostri tributati al totale dell'attacco dei mostri tributati mandiamo mostri dalla mano oppure scoperti sul terreno al cimitero il cui totale sia esattamente 10 e peschiamo due che effetti corti egomorf all'inizio del damage se un mostro combatte con un mostro dell'avversario attiviamo uno dei seguenti effetti cambiamo la posizione del mostro attaccante in difesa facciamo rimbalzare il target dell'attacco in mano oppure spacchiamo entrambi i mostri questo robot non target ed è fortissimo eternal ice grave durante il mine phase uno più mostri controlliamo lascia il terreno a caso di un effetto dell'avversario eccezione della distruzione attiviamo i seguenti effetti mandiamo all'end la in quella fase quindi se è in mine phase quella finisce skipiamo la mine phase uno del turno dell'avversario la prossima acqua round mandiamo una carta dalla mano e se lo facciamo durante la prossima stand by phase possiamo aggiungere fino a due carte con lo stesso nome della carta bandita dal deck alla mano se questa carta è stata attivata mentre l'avversario non controllava carte non possiamo attivare carto effetti di quella carta con il nome originale di quella carta bandita abbiamo quasi finito scrap iron idol altergeist revitalization new world formation new world full star the epic poem of shars the malaria louvre valiance wave pureli mikanko wipeout trap hole little little opposition little opposition mirror of the underworld e kiriban scrap iron targettiamo un mostro il nostro mostro è lo 7 o 8 drago sincro che è bandito oppure nel cimitero e lo specialiamo ritorno nell'extra durante la inface poi possiamo settare questa carta coperta invece di mandarla al grave se questa carta settata sotto il nostro controllo viene distrutta dall'effetto di una carta dell'avversario possiamo evocare specialmente un crimson dragon dall'extra deck altergeist targettiamo un altergeist link nel cimitero lo specialiamo possiamo bandire questa carta dal grave immediatamente dopo che questo effetto si è risolto possiamo evocare normalmente un altergeist new world formation targettiamo la maggio trappola che menziona visas nel cimitero e la settiamo e se se questa è una trappola oppure una magia rapida possiamo attivarla nello stesso turno possiamo bandire questa carta dal cimitero per targettare tre magie o trappola che menziona visas nel cimitero a eccezione di lei le meschiamo nel mazzo ok non peschiamo una carta di solito quando fanno così peschiamo uno però new world full star la prima volta che ogni nostro mostro sta per essere stato in battaglia in questo turno se controlliamo visas non viene distrutto durante line phase se controlliamo visas possiamo targettare un mostro nel cimitero mischiarlo nel mazzo se lo è oppure se controlliamo un tuner synchro possiamo aggiungerlo invece alla mano ok the epic poem of charts riveliamo noble arm magia ecco praticamente alla mano se lo facciamo specialiamo un infernobol dalla mano o deck poi per ogni equipaggiamento che abbiamo rivelato no poi possiamo o equipaggiarlo oppure mandare la carta rivelata al grave possiamo bandire questa carta dal cimitero per targettare imperial char se controlliamo equipaggiarli una carta nobili nobili cavalieri dalla mano o deck come carta magia equipaggiamento guadagna 500 specialiamo nemurelia oppure mostrello 10 bestia dalla mano o deck in difesa ma lo facciamo per ritornare in mano durante land possiamo bandire questa carta dal grey per targettare il vostro scoperto dell'avversario perde 100 di attacco per ogni carta che ha attualmente coperta bandita fino alla land phase una volta per turno supporto valiance se questa carta e se c'è una carta nella zona mostri viene mossa in un'altra possiamo attivare uno dei seguenti effetti scusate ma sto vedendo quadruplo ogni mostro tutti i mostri di livello 5 superiore valiance che controlliamo con il 1.200 mandiamo questa carta scoperta dalla zona maggiore trappola al cimitero per targettare solo l'effetto dell'avversario nella sua zona main e lo piazziamo come carta magia continua nella zona magia e trappola della stessa colonna pure lisciare lì targettiamo pure l'exis e controlliamo specialiamo un mostro livello 1 pure dal deck i suoi effetti sono legati se lo facciamo specialiamo l'extra deck mostro pure lì con lo stesso rank nel mostro targettato ma di differente attributo utilizzando quel mostro che abbiamo evocato come materiale poi possiamo attaccare una carta dal deck una carta con lo stesso nome cioè praticamente prendiamo una carta maggiore rapida che menziona il nome di una carta gli attacchiamo ok viene trattata come evocazione sincro e gli attacchiamo tutti i materiali ok targettiamo il mostro la magia deve avere il nome di quel mostro che abbiamo evocato Mikanko spiriting away targettiamo il scopetto dell'avversario controllo equipaggiamo questa carta a un mostro Mikanko che controlliamo poi se è un mostro rituale se è un mostro rituale sul terreno possiamo fuggire 50 toni all'avversario per la carta equipaggiamento che lui controlla ok attragettiamo il mostro scoperto che è l'avversario che controlla equipaggiamo quel mostro scoperto a un mostro Mikanko ok possiamo bandire questa carta al cimitero speciale al mostro Mikanko che è stato bandito nella mano bello che gli equipaggi un mostro dell'avversario a un mostro Mikanko quando l'avversario evoca un mostro con 1.1 più mostri con 1.5 di attacco inferiore li bandiamo coperti non male l'idolo position scegliamo due non utilizzate zone mostri nella stessa colonna e applichiamo i seguenti effetti specialiamo un mostro di livello 2 inferiore dalla mano deck nelle zone scelte in attacco oppure in difesa coperte ok no stavo pensando che potrebbe essere una roba sbagliatissima opposing mirrors of the underworld quando prendiamo danno dall'attacco o da un effetto nell'avversario applichiamo i seguenti effetti in base al tipo di danno preso battaglia speciale un mostro dal cimitero il cui attacco sia uguale o inferiore al danno che ci ha arrecato se lo facciamo terminiamo la battle phase dopo il damage ok effetto infligiamo il doppio del danno all'app per concludere kiriban se 10 o più carte o effetti sono stati attivati in questo turno specialiamo questa carta come un mostro effetto sai verse livello 10 3000 3000 viene considerata ancora una trappola si viene evocata in questa maniera durante la inface e attiviamo questa carta nella zona magica trappole una volta per turno quando l'avversario attiva una carta un effetto mentre questa carta è la zona mostri effetto rapido possiamo spaccare un qualsiasi numero di carte che lui controlla quanto è possibile e poi settiamo questa carta nella zona magica non sarebbe male solo che per evocarlo capirei troppo decepore detto questo ragazzi fatemi sapere voi cosa pensate su perrecappone in attesa ovviamente delle 20 carte che arrivano il tcg che è un ottimo scusa per qualche svarione ma credo che capirete che stare 40 minuti a leggere le carte sia un po' difficoltoso fatemi sapere appunto cosa ne pensate noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti